...abituato alla scomodità. Ed era presto per chiunque. Il caldo alle sei del mattino non è mai un buon segno. Mario lo sapeva e preferiva non pensarci. Si limitava a stare sotto la pensilina del primo binario con la valigetta in mano, in maniche di camice e la giacca piegata alla meglio in parte a lui sulla stessa panchina, sotto la stessa ombra.